Bene, buongiorno a tutti, siamo in diretta dalla Puglia di Corigliano Calabro, abbiamo con noi Nino. Buongiorno a tutti. Nino è stato con noi una settimana, purtroppo oggi se ne andrà e volevamo sapere da te. Nino, che cosa ne pensi di questa settimana di vacanza qui alla Puglia di Corigliano Calabro? Un'accoglienza eccellente, staff meraviglioso, animazione numero uno, in particolare Riccardo. Non è preparato, non è preparato, neanche a farla apposta, tutti stupendi, vacanza stupenda, nulla da recriminare. Bene, bene, siamo contenti che sia stato bene, allora noi facciamo queste video recensioni per consigliare ai nostri amici che siamo qui dal primo anno, che non lo sanno che siamo qui dal primo anno, di ritornare, di invogliarli a tornare. Abbiamo anche una nostra amica qui dietro, ecco, un'altra graditissimo ospite qui della Puglia Club di Corigliano Calabro. E allora Nino, dillo, torniamo qui al nostro villaggio di Corigliano? Senz'altro, sicuramente l'anno prossimo sarò il primo. Bene, bene, grazie a tutti, un saluto, alla prossima recensione, ciao! Ciao!